Il Signore consola con la misericordia e il perdono, lasciamoci sconvolgere dalla sua tenerezza anche se siamo più comodi nelle nostre mancanze e nei nostri peccati. È l'invito pronunciato da Papa Francesco nell'omelia della messa celebrata nella cappella della Casa Santa Marta. Traendo spunto dalla liturgia odierna, il Pontefice ha ricordato che la vera gioia della Chiesa è quella di uscire per cercare i fratelli e le sorelle che sono lontani, come il pastore nel Vangelo che lascia il greggio per cercare la pecorella smarrita. La Chiesa dunque è chiamata a uscire da se stessa per diventare feconda e non a fare il conto di un buon commerciante. Quando la Chiesa non fa questo, quando la Chiesa si ferma in se stessa, si chiude in se stessa, forse sia ben organizzata, un organigramma perfetto, tutto a posto, tutto pulito. Ma manca gioia, manca festa, manca pace. E così diventa una Chiesa sfiduciosa, ansiosa, triste. Una Chiesa che ha più di sitella che di madre. E questa Chiesa non serve. È una Chiesa di museo. La gioia della Chiesa è partorire. La gioia della Chiesa è escere di se stessa per dare vita. La gioia della Chiesa è andare a cercare quelle pecore che sono smarrite. La gioia della Chiesa è proprio quella tenerezza del pastore, la tenerezza della madre.